Sì, grazie Presidente. Intervento per stigmatizzare il metodo meschino, cioè l'operazione di boicottaggio lanciata dal baronetto inglese Elton John ai danni dei prodotti del gruppo Dolce Gabbana, colpevoli per il baronetto di reato d'opinione sul complesso tema dell'intervento della tecnica nella riproduzione, solo perché non precisamente corrispondente alle sue scelte di vita. Il baronetto, dall'alto della sua giatezza e dei suoi miliardi, non si rende conto evidentemente di cosa significa lanciare campagne di ricatto di questo tipo, con rischio di distruggere interi gruppi aziendali con danni commerciali e ricadute molto gravi sui lavoratori. Invece di favorire il confronto e lo scambio di esperienze su questi temi delicati, si è messo a usare il metodo del ricatto. Ancora una volta, però, dopo il caso Barilla, un'altra azienda italiana a simbolo mondiale del Made in Italy viene presa a guarda caso di mira. Vorrei dire al baronetto che io sto in commissione lavoro e mi confronto quotidianamente con la piaga della perdita del lavoro a seguito delle crisi reali e indotte. Ci mancava solo un multimiliardario angolo americano annoiato a lanciare fatue contro le nostre aziende. Ricordo all'inglesino che 9 milioni di italiani di tutte le età sono in sofferenza lavorativa, secondo gli ultimi dati Eurostat, e che siamo sempre più un Paese colonno dei poteri finanziari centrali del nord Europa e statunitensi, che ci stanno riducendo in un popolo di schiavi. Pertanto, chiedo all'illustre baronetto di chiedere scusa in primis ai lavoratori italiani del gruppo DNG. Grazie. La ringrazio.